A Sala Consilina in questi anni abbiamo raggiunto grandissimi risultati. Questo è il pensiero del primo cittadino del Comune di Sala Consilina, Francesco Cavallone, che a nostri microfoni ha tracciato un bilancio della sua amministrazione comunale, soffermandosi sulle iniziative e numerose opere pubbliche realizzate nel Comune Salese. Io credo che il bilancio sia stato più che positivo, perché noi dobbiamo calibrare quelli che sono i risultati nel contesto generale in cui si è amministrato. Quando mi sono insediato nel 2014, dopo aver fatto per dieci anni l'assessore, è stato un momento molto particolare perché nel 2015 è entrata in vigore la legge del bilancio armonizzato, dove vi era sicuramente una maggiore aderenza dei numeri a quella che era la realtà. È stato un momento molto difficile, soprattutto il primo anno di amministrazione, perché ci sono state una serie di imposizioni di legge che imponevano vincoli di risorse che dovevano essere, a prescindere dal loro utilizzo, vincolate in bilancio e le cosiddette rinvenienze passive che dovevano essere riscosse attraverso i vari tributi. Io credo che grazie a una grande azione sinergica a Sala Consilina in questi anni abbiamo raggiunto grandissimi risultati perché adesso abbiamo fatto tantissime opere pubbliche, scuole, abbiamo fatto un teatro, si sta completando un campo sportivo, la messa in sicurezza del costone roccioso, è stata inaugurata la zona industriale, è stata asfaltata una strada da anni a confine tra Padula e Sala, abbiamo avuto altri finanziamenti come 3 milioni di euro per l'asfalto di tutte le nuove strade, abbiamo avuto un finanziamento per l'adeguamento antisismico del Comune di Sala Consilina dopo aver fatto già l'efficientamento energetico. Credo che si sono raggiunti tantissimi risultati, ci sono state tantissime attività culturali, noi attraverso il teatro in collaborazione col Teatro Pubblico Campano è il terzo anno che abbiamo un grandissimo cartellone teatrale con degli personaggi di primo livello come Bucci Rosso, Biagio Izzo, Massimo Ranieri, Marisa Laurita e Benedetto Casillo, Cicchella, Gironi Vieccio, ci sarebbe tantissimo da dire, potrei tediare chi ci ascolta, credo che il nostro riso conto lo faremo a maggio nel momento in cui si affronterà la campagna elettorale, ci auguriamo che sicuramente siamo venuti nel maggior modo possibile incontro a quelle delle esigenze dei cittadini.